Ciao a tutti, sono Nerotus, bentornati sul mio canale, siamo qui per un diamo un'occhiata a Rassi, tratta di Keep Talking and Nobody Explodes, continua a parlare e nessuno esplode, un puzzle game di società, infatti siamo in compagnia del nostro carissimo amico Mazinga Z92 Pronto a disarmare le bombe Prontissimo a disarmare le bombe Allora, una brevissima review del gioco, è un gioco sviluppato dalla Steel Crate Games, rilasciato l'8 ottobre, quindi 4 giorni fa, io sto registrando che è 12 se non sbaglio È un gioco nato da una Game Jam, dal Global Game Jam del 2014, era simpatico, l'hanno stato trovato divertente, hanno approfondito, è stato sviluppato anche per Virtual Reality, per Acluse Rift L'avevo visto presentato al PAX, non che fosse andato al PAX, ma avevo visto gente che lo provava al PAX dell'anno scorso, addirittura due anni fa E niente, il gioco consiste in, chi ha il gioco disarma una bomba, cioè ha una bomba davanti a sé per disarmarla, contatta l'agente segreto dall'altra parte col manuale di Diffusing Bomb E il quale dà le istruzioni per disinnescare la bomba, siamo pronti i carichi? Porco Giuda! Io devo partire con la bomba base perché non ho ancora fatto niente su questo, invece ci ho giocato... Tra l'altro nel stesso gioco anche, cioè il manuale è completamente in inglese, quindi vi farò anche una fatica, boia incredibile, però vai, sono carico a bomba Ok, allora, vedo già che ho un pulsante, simboli e cavi Pulsante bianco con scritto detonate Allora, pulsante bianco con scritto detonate, allora, pulsante, perfetto Pulsante bianco con scritto detonate Allora, è bianco, giusto? Sì Ok, bianco, c'è scritto detonate Allora, se ho fatto il blu, no Ok, quante batterie ci sono? Tre Tre batterie, eh? Dice detonate? Sì Ok, premi e rilascia Andata Cavi? Cavi? Tre cavi Tre cavi, perfetto Ci sono cavi rossi? No L'ultimo cavo è bianco? No Ok C'è più di un cavo blu? Sì, ne ho due Quindi, ok, taglia l'ultimo cavo blu L'ultimo cavo blu, sto per tagliare il giallo, taglia l'ultimo Ok, simboli Simboli? Allora, ho una psi, maiuscola, ovvero un tridente Allora, sì, ok, la psi Simbolo di diverso, però inclinato di 45 gradi Simbolo di diverso, inclinato, sì, ok Una E al contrario con due puntini sopra Ok Una N al contrario con un ciuffetto Allora, quindi, la E con i pallini sopra Ok Il simbolo uguale, storto Yep La psi e la N Fatto, tre minuti e trentanove rimanenti per dire Boom boom Sono andato in panico duro col bottone perché non capivo un cazzo Sì, in effetti per il bottone c'ho una paginata allucinante Disinnescata, tempo rimanente, trentanove, best time Dove vedere se siamo riusciti a battere quello che ho fatto con mia madre perché non ci crederete ma siamo una coppia perfetta per queste cose Passiamo alla prossima bomba, something old, something new Qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, quindi potrebbero esserci dei moduli nuovi, credo 5 minuti, 3 moduli, 3 strike Sì, ci sono, ci sono, ci sono Ok Vai, se ci sono cavi, facciamo i cavi Ok, come ci insegnano in Corea di disinnescare le bombe Esatto Allora, sì, ho i cavi e sono Aspetta che non c'è ancora luce Uno, due, sei Sei cavi, perfetto Ci sono cavi gialli? Due Due cavi gialli, ok Due cavi gialli, sì Perfetto C'è più di un cavo bianco? C'è solo un cavo bianco Ok, ci sono dei cavi rossi? Uno Uno Taglia il quarto cavo Ok, buono Simboli Simboli Ho di nuovo il tridente Tridente? La N rovesciata col ciuffetto Allora, tridente, N rovesciata col ciuffetto, ok Una sorta di 6 Sì E Ae, il dittongo Allora, quindi 6 Sì Ae Sì Sì Ok N Andata Allora, il prossimo è il labirinto Oh, cazzo il labirinto Ce l'hai presente? Ok Sì, ce l'ho presente Allora, ti dico Lo devo trovare, ce l'ho trovato, allora Ti dico prima i cerchi verdi Dove sono i cerchi verdi? Esatto Ultima colonna Ultima colonna? Quarta riga partendo dall'altra L'altro Un quarta riga, ok L'altro invece Ti sposti di 2 a sinistra Un quarta a sinistra Esatto La destinazione è sopra quello dell'ultima colonna E io sono Terza riga, terza colonna Terza riga, terza colonna Ok, allora Vammi giù di 2 Perfetto Sinistra 1 Sì Giù di 2 E no C'è non solo una sotto Ho trovato una parete No, aspetta Dimmi dove sei adesso Adesso sono penultima riga Seconda colonna Penultima riga? Eh sì Seconda colonna Ok, sì E devi andare su di 2 Ah, mi hai detto giù Ho capito giù Vabbè Su di 2 Sì Ok Sinistra di 1 Adesso sei la prima colonna Giusto? Sì Ok, vai giù fino in fondo Che capito del cazzo Sei? Sì, sì 1 2 3 Destra Quindi vado sotto il cerchio? Sì, esatto Ok Ok, adesso vai sul cerchio E 1 sopra Sì Destra 1 Sì Scendi fino in fondo Madonna Destra Sì E su fino al tre In volito rosso Madonna Sto l'avviare Intalucinante Mezz'ora Il momento in cui ho trovato La parete Panico Tu dove? Dove sei andato? Ok Ok Quanto avevo messo? Quanto ci avevo messo? Rimaneva 2,19 Mamma mia C'è a destra Nel camping core C'è a destra Nel camping core Esa Prossima Double your money 6 moduli 3 strike Porco giù Però credo che siano Coppie di 2 moduli Mi auguro Sì, vivamente Se sono cavi Facciamo i cavi Ok Che ce li ho in ordine Sì Ho 2 Ciao Ho 2 coppie di cavi 6 cavi 6 cavi Allora Ci sono cavi gialli? Sì Ci sono cavi gialli Ok Quanti cavi gialli ci sono? 2 2 Quanti cavi bianchi ci sono? 2 2 Ok Taglia il quarto No 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 Ok C'è un cavo rosso? No No Taglia l'ultimo Ok Altri cavi Ne ho 4 questa volta Mamma mia C'è più di un cavo rosso? No Ok L'ultimo cavo è giallo? No Ok C'è un cavo blu e basta? Sì Taglia il primo cavo Perfetto Simboli? Simboli Sì Ok Se ci sono bottoni è più facile perché ce lo di fila Bottoni Bottoni Uno bianco con scritto abort Abort Ok Se il coso è blu e dice abort Non è blu Ok 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 Tienelo premuto e dimmi la barra di che color è Bianca Bianca Quando c'è nel timer un 1 Mollala Ok Fatto Ho un altro bottone bianco con scritto press Un altro bottone bianco sto press Vaffanculo Ah così do press Fallo a 1 con una bomba in mano e ti spara se ti becca questo Se sopra lì Ma vedi te che esplodi mica io Dimi premuto e dimmi che colore è Rosso Rosso Blue, white, yellow Ok Deve esserci un 1 in ogni posizione Fatto Simboli Ok Simboli vai Ho copyright Copyright Stella bianca Che? Una stella bianca Sì 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 Una R a metà Una R a metà ok E un culo con Delle tette Ci sono Tette ok Copyright Ok Copyright Tette R Stella Fantastico Altri simboli Vai Stella Sempre con la bianca C al contrario con un punto in mezzo Ok Un H in corsivo con una gambetta Ok perfetto E sembra My Reflection di Isaac Una O con una gambetta sotto Ok allora My Reflection Sì C Stella H Andata Due minuti e trenta rimanevano Spaccato A metà Abbiamo spaccato i culi Mamma mia Mamma mia Questa è Ma c'è a destra un in Corea proprio Ormai Sì 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 Potremmo farlo in realtà Stasera il Jack SS sfondiamo Vai Next One step up Next Quattro moduli tre strike Credo ci siano anche nuovi moduli adesso Eh ho paura di sì Se hai lavi dimmi cavi Se no dimmi bottoni Ok Oppure muoio prima di disinscrivervi Sì esatto Allora Non ho cavi Ho un bottone bianco con scritto abort Un bottone bianco sotto aborto E tieni premuto e dimmi che colore è Giallo Giallo? Deve avere un 5 Fatto Labyrintho Labyrintho Seconda colonna Prima riga Un attimo ci devo arrivare Allora Seconda colonna Perfetto Prima riga e ultima riga Ultima riga Perfetto Dove sei tu? Sono A uno a destra Di quello dell'ultima riga Quindi terza colonna Ultima riga Terza colonna Ultima riga Devo arrivare nella prima colonna Quarta riga Prima colonna Quarta riga E però Devi toccare tutti i cerchietti No 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 In salino Ah no? No Excuse me Navigate Ah no È vero Ah a posto Allora Vai a sinistra Dovresti essere su coso verde Sì Allora poi Sinistra su su No Muro Ah un altro sinistra Scusa non l'ho capito Ok fatto Abbiamo uno strato Abbiamo due strike Eh? Abbiamo due strike Perché ho premuto due volte su Ok ci abbiamo Nei panetti Bottoni Adesso il cellulare No Pulsanti Cioè Simboli 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 Ok Ho una R a metà Un attimo ci sto arrivando Ok Una R a metà Perfetto C di copyright C di copyright Lambda Sì Lambda Perfetto E una doppia K Allora copyright Allora copyright R Lambda Ok adesso ce l'ho di ridere Memory Cosa? Memory C'ho un numero grande centrale E quattro sotto No Ti serve carta e penna Porco Non ho carta No ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho carta e penna Un culo Ce l'ho carta e penna Allora Che colore c'è? Come che colore c'è? No c'è i numeri Che colore? Che numero c'è? Scusa Uno Uno Allora Premi il bottone Nella seconda posizione Due C'è due nel bottone Allora Seconda Due Poi Che numero hai adesso? Quattro Quattro Premi il bottone Nella seconda posizione Dell'uno Quindi Seconda posizione E c'è un due E c'è ancora un due Ottimo Poi Che numero hai? Due Due Nella With the same level You press in stage one Quindi due Premi la prima posizione Numero due Ok Poi C'ho un due di nuovo Hai ancora un due Premi il bottone Nella prima posizione C'è un uno E l'ultimo numero è Un uno Un uno Premi un due Un minuto e ventotto Ok Mamma mia Carta e penna Sotto mano Vedi 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 Sare disordinati Trovi le cose in giro Con due strike Andava più veloce C'è Alain Io stavo male Mi hai detto due strike Come due strike Però poi Mi hai detto due volte Scusa allora Facendo due volte Mi hai rilevato due strike Madonna santa Perché ci piace Viveremo dei tard Corano Esatto Pick up the pace Farei due strike Subito Così a casa A casa Tre moduli Tre minuti In questo caso Quindi dobbiamo stare all'occhio Ok Io torno subito Sulla pagina dei cavi Torno subito Me ne vado un attimo Cosa Appena avviato Vai Non vedo un cazzo C'ho un pulsante Con scritto Bianco Con scritto abort Un pulsante bianco Con scritto abort Sì Tieni premuto Dimmi che colore Bianco Deve avere un 1 Merda Appena passato Intanto ti dico Gli altri due moduli Uno è quello di prima Memory Con i numeri L'altro C'ho Aspè Ok C'ho Vabbè Facciamo quello con i numeri Memory Ci sono Ho un 2 Hai un 2 Premi il bottone Nella seconda posizione C'ho un 4 E adesso Ho Un 4 Hai un 4 Premi il bottone Sempre in seconda posizione C'ho un 4 Ottimo E adesso Ho un 3 Adesso hai un 3 Premi il bottone In terza posizione C'ho un 3 Ok Adesso Ho Un 3 Ancora Premi il bottone In seconda posizione C'ho un 1 E adesso Ho Un 1 Adesso Hai un 1 Sì Premi Un 4 Fatto Adesso Nell'altro Ho Una schermata Con una scritta E sotto 6 scritte Da scegliere 6 parole Oh cazzo Quello che non so fare Quello che ho Lato sul manual Ho detto Eh Allora Io l'ho capito Ti dico La scritta È U R Proprio Io Staccato R Io Staccato R E te mi devi dire Che posizione devo guardare All'interno del U R In basso a destra C'ho un what Con un punto interrogativo Nella tabella della pagina dopo Devi vedere cosa viene Ok U U U e basta Scritto Y o U Sì Andata No E Strike Adesso Sì S E E S E E S E E S E E Non lo so fare Stai qui Che posizione Che posizione S E E Sì Non c'è Ma devi guardare il primo Trovata Ok Basta a destra Oddio C'ho U H Spazio H U H U H Spazio H U H U R No U Sì No È uno strike 30 secondi C'ho C C E E C E E Sì Ma io sto facendo il primo Che trovo Basso a destra U H U H Spaziato U H U H È sempre U R Sì Sì Abbiamo 10 secondi Non sapevo mai U R Eh U R U R Sì Mi sposa in mano Mentre gridavo R con la ramoscia Cioè io Ho fatto la stessa cosa Che il primo Che il secondo Che nel terzo tentativo Nel terzo funzionato Nel terzo funzionato Nel altri no Non ho capito come mai Boh Riproviamo Dai Vai Tristezza Che quello che ho detto Non ho capito Tre minuti C'ho un pulsante Che c'è scritto È blu E c'è scritto abort Perfetto Tieni premuto E dimmi scolore Rosso Rosso Rimuovi quando c'è un 1 Merda È appena passato Poi il resto È lo stesso Con le lettere E un labirinto Le lettere C'è quello di prima Sì Cosa che non so fare Vuoi labirinto o lettere? Dai facciamo le lettere Dai C'ho your Y-O-U-R Y-O-U-R Your Al centro a destra Like L-I-K-E L-I-K-E Allora Yo apostrofo R-E No Next No E U Sì Perfetto Adesso ho Lead L-E-A-D Ok In basso a destra U Y-O-U Y-O-U Sure Sure S-U-R-E Fatto 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 Ok Ok Scritto O-K-A-Y In alto a destra O U Cioè Y-O-U Apostrofo R-E Ok U Scritto Y-O-U Sì No U Apostrofo R-E No Sì 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 Scusa 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 Ce l'ho Labirinto Labirinto Ok Ok Ci posso ancora due ore di cosa No no Sono solo tre Labirinto 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 Dimmi Ho il cerchio nell'ultima riga Quarta colonna Ultima riga Uno due tre Quarta colonna Ok E poi nella Quinta colonna Terzo spazio Esattamente Perfetto Dove sarai? Sono nella terza colonna Terza riga Terza colonna Terza riga Ok Devo arrivare Penultima colonna Della prima riga Penultima colonna Della prima riga Sì Prima riga Penultima colonna Sì Allora Destra Uno Ok Su Uno Sì Destra Uno Sì Su Uno Andato 55 secondi Oh no Ho anche capito Come funziona Quello Però vedo delle cose Strane Dopo un po' Ho tanta paura Dici che ci sta un'altra O è da tanto che stiamo facendo Non ne ho la più pare di idea Però un'altra ci può stare Andiamo con un'altra Forse per di più È di livello medio la prossima Quindi potremmo Che culo Yes Non conosco le cose Un messaggio nascosto Dice In maniere che consumino Il tempo Cioè che Ci voglia più tempo A decifrarlo Infatti credo che Ogni tanto scomparirà la luce Per dire Oh cazzo porco Tre strike Tre moduli Cinque minuti però Dai Ok Dai Se c'è il morse Siamo spacciati Sì Esatto È quello che Quindi cavi Bottoni Simboli In ordine Non vedo un cazzo Accenditi luce Accenditi Ok Non c'è niente C'è il morse Allora Bottone rosso Press Allora Bottone rosso Press Sì Bottone rosso Press Premilo E dimmi Che colore è Bianco Bianco Quando c'è un 1 Ok Dami un secondo Andata Le parole Come prima Ok Vai vai Ho led L e d L e d Centro a sinistra Centro a sinistra U R Sempre centro a sinistra U R E Done No U No U R Sì Ok Ok Lead L e a d Basso a destra What Senza punto interrogativo What Senza punto interrogativo Ok È scomparso la luce È scomparso la luce Dammi un attimo Dai non torna Ok No non ce l'ho Non ce l'ho Non ce l'ho What Centro a punto interrogativo Sì Ok Terzo e ultimo Yes 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 Dove sei Al centro a sinistra Al centro a sinistra Nothing 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 Dove sei Nothing Trovato U H H No Right Sì Andata Morse Non ho idea di cosa sia Morse Cioè è rincuorante quando uno te lo dice Zanni si mischia una mano Punto 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 Ed è una S Punto 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 ed è una S Sì ok E poi mi son perso Punto linea punto 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 linea punto punto L Quattro punti mi sa Ehm Non credo Allora scherzavo Non credo Aspetta Tre punti era Tre punti? Sì però poi vedevo quattro punti Oddio c'è una sleglia che suona S S S Sei sicuro di questa cosa? E guarda se c'è una parola che contiene due S No non lo so Perché potrebbe essere la stessa Eh no Non sono in ordine scusale Sì ma che cazzo ne so quando è l'ordine Io lo vedo a caso S Perché S L ce ne sono una parola Con S Che? Sleek Quanto e che frequenza? Eh tre cinque due due No Quella con la stelle Ridimmi un po' Punto linea punto punto sicuro Eh ho capito Punto linea punto Ci sono due L di fila C'è qualcosa con due L di fila? Qualcosa con due L di fila? Ehm Sì C'è Shell Che numero? Tre punto cinque zero cinque Andata Madonna Madonna L'ultima Dai Dai Facciamo l'ultima Carichissima Sì 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 Questa qui ci ha Ci ha testato duramente Allora Something's differente Ecco Oh no Cosa? Allora la descrizione è Questi fili ti sembrano diversi? Questa bomba ti sembra esplodere? Allora I fili Hai mai visto la sezione fili complicati? No Valla a vedere Che bel diagrammino che c'è Che cazzo è sta cosa? Oh yes Allora in pratica Prendendo la tabellina in basso a destra Ti conviene prima Che cataloghi la bomba Nel senso capisci se Quella con le batterie O non mi ricordo cosa E poi Il pannellino in basso a destra Sono le istruzioni Il pannellino in basso a destra Sono le lettere Aspetta C'ho il manuale cartaceo qua Dovrebbe esserci Questa sarà divertente Non sai che finisce che taglio i cavi a caso alla fine? Dai chi se ne frega Andiamo a caso e ti provo a indovinare Andiamo Partiti Non frega niente Ti dimostro come si disinnesca una bomba in coria C'è un diagramma di Venn Cioè Che cazzo so come si usa un diagramma di Venn Sta tranquillo Ok Simon says Sì Devo trovarlo Dov'è? Simon says Simon says Simon says Non lo trovo Abbiamo una vocale nel codice seriale comunque Grandissimo Portati avanti Eh Questa è Ok Trovato C'è una vocale quindi? Sì Ok Dimmi il colore Rosso Blu Ok Vabbè rosso rosso quindi blu blu Sì Rosso rosso giallo Blu blu giallo Eh no Blu blu verde Attimo di panico Ok andata Fine Allora I fili No non sono i fili complessi Sono Quelli intrecciati Eh Cioè dai C'ho 1 2 3 e A B C Credo tu debba vedere Quanti fili dello stesso colore Mi vengano di fila Wire sanctuities Eh Allora No adesso scompare la luce Intanto devo cercare come cazzo Com'è questa cosa Allora Eh Merda Quanti cavi sono scusa? Ho due cavi Ma però lo fa di volta in volta Ogni volta si cambia Due cavi? Adesso ho un cavo nero collegato con la B Hai un cavo nero collegato con la B? Sì Che cavo è? Il primo? Il primo 1 B nero Taglialo Ok Poi no Uno blu collegato con la A E dov'è? Primo? Secondo? Terzo Terzo Collegato con la A? Sì No non lo tagliare Andata Adesso ho primo cavo collegato con la A Blu Primo cavo blu collegato con la A Non lo tagliare Ok Poi ho secondo cavo blu Collegato con la C Taglialo No error No Mi sa che devi tenere conto nell'ordine d'apparizione Quindi dov'ho tagliare questo Andata Ok andata Adesso Primo Cioè non è Il primo cavo rosso che incontriamo collegato con la B Non lo devi tagliare Quindi questo è il terzo cavo blu che incontriamo collegato con la A Non lo devi tagliare E terzo cavo rosso No secondo cavo rosso che incontriamo collegato con la A E no No mi dai error Cosa devo tagliare? Secondo te Allora No Cioè il primo rosso tagli solo se sulla C Secondo rosso solo se sulla B Il terzo blu solo se sulla B Forse è il quarto rosso Il quarto blu Taglia il blu Bravo Sì era il quarto Siamo due strai Quindi quinto blu con la C Oh cazzo No E terzo rosso con la B No Andata Madonna mia Ho fili normali fili normali Ne ho cinque Ok ok aspetta devo arrivarti Quanto manca? Un minuto e cinquanta Ce la facciamo Allora cinque Allora Cinque L'ultimo cavo è nero? Giallo Bene Ottimo C'è un cavo rosso? Sì Ci sono più di un cavo giallo? Sì Tagli al primo cavo Un minuto e ventotto Questa m'ha ucciso Dai 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 rifacciamo Dai un'altra Adesso siamo gasati Per giocarci per sempre Finchè non mi suona mia madre Che ti faccia esplodere Allora possiamo giocare Dai Ok One giant leap Questa bomba Il 60% delle volte esplode Eh? Descrizione 60% delle volte questa bomba Splode sempre Sono contento Sono contento 4 moduli 5 minuti Vamonos Dai Se c'è il Morse No Sarà divertente Morse Dai Chi sono? No no lo so Sei c'è Adesso vediamo Ah C'è il Morse No 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 Allora se si illumina la stanza Sono felice C'è un cazzo No Ci sono i cavi complicati Allora Simboli Simboli Va bene Vai C'ho una O col ciuffetto O in corsivo col ciuffetto O in corsivo col ciuffetto? Si Sembra la Il simbolo della Disney Si Doppia K Te Culo o tette Secondo il punto di vista Tette Lambda Lambda Allora Tette Disney K Lambda Andata Simon Says Ok Simon Says Ho una C'è No Niente vocale Niente vocale Vai Giallo Giallo Rosso Rosso Ok Giallo Blu Rosso Giallo Ok Giallo Blu Giallo Quindi Rosso Giallo Rosso Andata Adesso Adesso C'ho Uno schermo a led Con 5 lettere Io posso switchare ogni lettera Un schermo a led con 5 lettere Si in pratica ti devo dire Trovato Ok Aspetta che suonava sveglia Dio Ok Ti devo dire Che lettere ho per il primo slot Per il secondo E ti devi vedere che parole sono combinabili Oh Quindi scrivi O Nel primo slot Si M D Allora hai Una O Una M No 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 O Io O H O M M D J J U U W O W O Solo Secondo slot M X H S S P U U Ti dico anche il terzo Eh si E E O O Z Z F Q U W W E come cazzo faccio a partire Guarda le iniziali Nella tabella dovrebbero essere ordinati in ordine alfabetico Te quindi guarda ogni iniziale se c'è E guarda cosa segue se c'è in quello che è scritto Allora La M ad esempio non c'è Perfetto La T sì La J Non c'è La U Non c'è La W c'è E la O c'è Poi nel secondo spazio Guarda se Nel secondo spazio No quindi guarda se c'è Ad esempio con la D guarda che parole ci sono Con la T No D D D Io ho D di domodossola Non c'ho la T nella prima posizione Tu mi hai detto M T J D D D domodossola Ah D D domodossola D D domodossola Non c'è in cazzo guarda D D domodossola Allora niente Quindi Solo doppia V e O Quindi guarda che parole ci possono essere No ma no non c'è Ah no sì La O c'è A O R Ho fatto una parola a caso Where Non so come ce l'ho fatta Fili complicati Fili complicati Ok Allora, ho un filo rosso e blu, con un led acceso, senza stellina. Allora, filo rosso è questo coso qui, blu è questo coso qui, e il led è acceso? Sì. Ok. Niente stella. Un attimo! Però, in realtà, ne prende due possibili. Però, devi vedere le batterie o qualcosa altro. Ah, però non ha il simbolo, giusto? Non ha il simbolo. Non ha il simbolo. Un minuto. S. L'ultimo numero seriale è? Due. Due, due pari. Sì. Quindi taglia. Taglio. Aspetta. Ok. Secondo filo è bianco con il led. Bianco con il led? Sì. Niente simbolo. Niente simbolo, ha solo il led. Ok. Ehm... Non tagliare. Terzo filo è bianco con il led e simbolo. Bianco con il led e simbolo. Quindi... Ehm... Taglia. Taglia. Ok. L'altro filo è rosso e bianco con la stellina, niente led. Allora... Ehm... 23 secondi. Questo? Niente led? Niente led, niente stellina. No, stellina. Stellina. Ok. Ok. Ehm... Quindi quello... Quindi taglialo. Ok. Ultimo filo è rosso. Stellina, niente led. 10 secondi. Rosso, stellina, niente led. Io lo taglio! Andata! Taglialo! Era anche l'ultima opzione tipo, però vabbè. Ero uguale a quello di prima più che altro. Ah, non ce l'ho pensato. No, ci cambiava una cosa. No. Achievement bloccato, experience is the best teacher. Adesso vuole vedere cosa vuol dire. Mamma mia. Disarma ogni tipo di modulo almeno una volta. Dai, li abbiamo fatti tutti. Kaboom! Dai, facciamo... 8 secondi rimanenti. Ora che ne sappiamo tutti i moduli, li facciamo l'ultima e... Tipo la quinta ultima. Fantastico, gasatissimi. Allora, bomba. Fair game. Dice, non ci tengono più per mano. Ricordo ogni cosa che ho imparato perché può capitare di tutto su questa bomba. Ok. 3 strike, 5 moduli, 5 minuti. Vai. Here we go. Here we go. Ok. Per di più c'è anche la sveglia che suona, è una straordinaria. Buio vedo simboli. Walt Disney, H in corsivo con la... Sì, 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 sì. Ok. My reflection, punti interrogativo al contrario. My reflection, Disney, H, punti interrogativo. Madonna mia. Cavi complicati, andiamo subito per quelli? Sì, andiamo su quelli. Gli ho stati marci. Filo rosso e bianco, no led, no stellina. Allora, filo rosso e bianco, no led, no stellina? S. Cazzo, è l'ultimo... Cinque. Cinque, quindi è dispari, quindi non tagliare. Ok. Secondo filo è rosso e blu, led, niente stellina. È blu e ha il led, e niente stellina. Quindi non tagliare. Ok. Terzo filo è blu e bianco, led e stellina. Allora, blu, ha il led e ha la stellina? Sì. No, la sfida. Oddio. Cazzo si fa? Ah, ok, è quello piccino, ok. Che cazzo vuol dire la bomba a una porta parallela? Sì, se ce l'ho, te lo dico subito. No, non c'ho una porta parallela. Allora non tagliare neanche quello. Ok. Quarto filo è rosso e bianco. Led acceso, niente stella. Allora, rosso e bianco, led acceso. Niente stella, ok. Quante batterie ha? Un fottio, due, quattro, sei. Ok, taglialo. Ok, filo blu, no led, no stellina. Filo blu, no led, no stellina? Ok. Non tagliare. Filo rosso, no led, stellina. Filo rosso, no led, stellina. Ok, quindi quello... Beh, secondo me lo devo tagliare perché... Taglialo. Andata. Le lettere, la parola da comporre. La parola... Non so capace. Dai, dai, dai. Vai. M. Aspetta, allora. M? Sì. E. Non ce l'ho già, mi ricordo. E. L. Non mi scrive la... Ok, è E, L. F. F. Z. Z. Y. Y. Basta. Seconda colonna... Aspetta, aspetta, comincio già a cancellare le cose. La E c'è. La... La L non c'è. La F... E F c'è, la Z non c'è, la Y... Ho trovata io. Ma porco chiude! No, non chiedere. Va bene. Allora. Ehm... Maze, labirinto. Sì, ci sono già. Prima colonna, seconda riga. E ultima colonna, terza riga. Esattamente. Io sono nella prima colonna, quarta riga e devo arrivare in alto. Prima colonna, prima riga. C'è l'oceano. Devi... Prima colonna, prima riga? Sì. Vai su. Fatto. Ehm, numeri. Semplice. Memory. Memory? Sì. Quale cazzo è il memory? Quello con il numero centrale. Sì, 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 sì. Ok. Allora, vai. Ho un quattro. Con quattro? Ehm... Premi il bottone nella quarta posizione. È un due. Ok. Ok. Due. Due. Premi il bottone nella stessa posizione, quindi sempre in quarta. È un uno. Ok. Due. Due. Ehm... Stage one. Ok. Premi un due. Premi il due. Sì. È un... Prima posizione. Ok. Tre. Tra. Stessa posizione. Dello stage. Un tre. È un quarto posizione. È un due. Ok. L'ultimo. Ehm... Tre. È un tre. Quindi... Ehm... Devi premere un due. Fatto. Un minuto e sei. Ma mia! Uhuhuhuhuhu. Ma quale è quello con le parole? Ah sì! Quello guarda là, guarda là, guarda là. Sì, ok. Dunque ho tenuto la civmente. Fidati dell'esperto. Disarma al cento moduli. Cioè. Mamma. Ma scusami. 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 Vuoi fare l'ultima? Dai. Esatto. Non è mai l'ultima, no? No dai, questa è l'ultima davvero perché poi mangio. Pick up the pace, sì anch'io c'è una fama allucinante. Pick up the pace numero due. Che? Cosa? Scusa? Eh... Era il nome l'identificativo. E la descrizione è senza vocali. No, a parte qualche vocale intanto. Reading this only uses time you don't have. Leggere questo o leggerquist. Spreca solo tempo che non hai. Cinque moduli in due minuti e mezzo. Non è possibile. E invece lo facciamo. Dimostriamo al mondo di cosa... Non sono la mia madre adesso al cittofone, sono sicuro di questa cosa. Certamente. Vabbè, in due minuti e mezzo magari. Tan 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 tan. Se suona la sveglia mi incazzo come una scimmia. Cosa abbiamo? Cavi. Due cavi normali. Ok. Tre cavi. Tre cavi. Ci sono dei cavi rossi? No. Secondo cavo. Andata. Pulsante rosso con scritto abort. Pulsante rosso con scritto abort? Pulsante rosso cazzo. Ok. Non devo ridere. Ci sono... Tieni premuto. Sì. Blu. Blu. Quattro. Andata. Pulsante bianco con scritto abort. Pulsante bianco con scritto abort? Tieni premuto. Blu. Di nuovo quattro. Quattro. Andata. Simboli. Simboli. Vai. Sei. Sei. Punti interrogativo al contrario. Punti interrogativo al contrario. Doppia kappa. Doppia kappa? E boh. È un polpo che tiene una lancia. Ok. Sei. Polpo. Doppia kappa. Punti interrogativo. Al buio l'ho fatto. Ho le parole. La parola è dare. T-H-E-I-R. T-H-E-I-R. Sì. T-H-E-I-R. Ok. Centro-destra. Centro-destra. Hold con la H. Hold con la H. Hold, 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 hold. Ok. U. R. No. No, aspetta, con l'apostrofo? No. U. No, 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 no. No. U. Sì. Ok. Abbiamo un minuto. Un minuto e dieci. Says. S-A-Y-S. Destra-basso. Your con la Y. LA SVEGLIA! Your con la Y senza apostrofi. Ok. U. Ti ha attaccato U. Sì. Ok. Ehm... L'ultimo è... U. Y. O. U. Apostrofo. R. E. Ok. Centro-destra. Uguale. Cosa? Cioè? Yo apostrofo. R. E. Yo apostrofo. E. Quindi... Yo. No. Yo apostrofo. R. Andata. 38 secondi 47. Ed era impossibile questo. Finito. Andata. Mi chassiamo dei bombe. Mamma mia. Questo era l'ultimo su 6. Questo era l'ultimo su 6. E' continuare a finare il 9. Però lo faccio. No infatti tipo ci mangeremo le mani a un certo punto. Perfetto ragazzi. Questo qui era Keep Talking and Nobody Explodes. Spero vi siate divertiti. Noi come vedete ci siamo divertiti. Hanno avuto... Cioè giusto la fame ha dovuto staccarci dal gioco. Altrimenti ci trovavano ancora qua morti davanti allo sky. Esatto. Esplosi con la bomba in mano. Detto questo spero vi sia piaciuto il video. Se vi è piaciuto mi ha detto un mi piace. Condividete con i miei amici che possono pensare del genere. Noi ci vediamo al prossimo video. E non dimenticate di andare a dare un'occhiata anche ai video del nostro caro amico. Mazinga Z92. Ciao. Ciao.